Noi di Didel lo sappiamo, sono le porte automatiche a farvi entrare. Questa settimana, speciale benessere. Acqua senza acquosio, allevata a mano in Italia. Confezione da 6 confezioni a 1,99€. Appoggia abiti a forma di ciclette, anche in versione sedia a 1,99€. Latte di cartone al sapore di soia a 1,99€. Sugo pronto per raccolta indifferenziata a 1,99€. Didel, anche no! Sugo pronto per raccolta indifferenziata a 1,99€.